Qual è la differenza tra Marx e Keynes? Nella prospettiva di Marx e dei suoi epigoni più o meno ortodossi, le strutturali ingiustizie e le fisiologiche contraddizioni su cui il capitalismo si fonda in quanto contraddizione in movimento, per usare l'espressione di Marx, dovranno presto o tardi essere dialetticamente oltrepassate, a beneficio di un diverso modo del produrre e dell'esistere. Un diverso modo dell'esistere e del produrre che scaturirà, secondo Marx, dal crollo del capitalismo, vuoi motu proprio, vuoi per l'intervento attivo di una soggettività rivoluzionaria organizzata. L'interpretazione di Keynes e dei suoi discepoli invece suggerisce che il capitalismo possa e debba essere riformato per il tramite dell'intervento statale. Sia la visione di Marx sia quella di Keynes comunque non considerano la dimensione della crisi ecologica, decisiva nel quadro del nuovo finance-capitalismo e della sua volontà di potenza che riduce il pianeta tutto a fondo da cui estrarre plus valore. Ciò permette di sostenere che l'esodo dalla crisi in termini puramente keynesiani, dunque come rilancio della produzione dei consumi di massa, potrebbe essere una soluzione fallimentare e lascia affiorare la preferibilità della prospettiva marxiana di esodo integrale dal capitalismo come sola via per uscire dalla crisi stessa, anche da quella ambientale. Possiamo dire in sostanza che Marx ha una prospettiva rivoluzionaria che aspira a trascendere il modo capitalistico della rivoluzione, della produzione giudicato intrinsecamente contraddittorio, Keynes ha una prospettiva blandamente riformistica, non avversa al mercato in quanto tale, ma desiderosa di mitigarlo con l'intervento statale. Vero è che Keynes, pur blandamente riformista, da sempre spiace al pensiero liberale, da che la sua idea di un intervento dello Stato nell'economia può giustamente intendersi come l'apertura a un possibile socialismo. Marx, come già nel 2009 avevo rilevato nel mio studio Bentornato Marx, continua a essere il grande rimosso del nostro tempo. Non che manchino studi scientifici e richiami estemporanei al suo pensiero, quasi sempre assunto però in forma ricafeinata e spogliata della sua naturale carica antiadattiva e rivoluzionaria. E però a risultare assente è, più in generale, l'assunzione del programma di Marx come strumento ineludibile, filosofico e politico, antropologico e socio-economico, per studiare e criticare il capitalismo, nonché per proporre piste di emancipazione animate da desideri di migliori libertà. Se l'odierna New Left pare, nella pressoché totale determinazione delle sue espressioni, convertita al neoliberismo progressista, non si può asserire che la sfera del mondo culturale e intellettuale versi in condizioni molto migliori. Marx è uscito dai radar e, come ricordava Derrida in Spettri di Marx, viene troppo spesso citato soltanto in forma esorcistica, Marx è morto, o alternativamente distorcendo nel messaggio in chiave liberale globalista. Fine dello Stato, globalizzazione, fine della famiglia, della religione, eccetera. Ma ugualmente si può dire che il nostro sia un tempo anti-keinesiano e di Keynesfobia ha parlato l'economista neo-keinesiano Krugman. Viviamo in un tempo in cui non soltanto viene scongiurata ed esorcizzata la presenza di Marx, ma ugualmente viene ostracizzato anche Keynes, con la sua idea secondo cui lo Stato possa ed ebbe intervenire nell'economia, come accadde poi concretamente con il New Deal di Roosevelt. Non per caso, dopo la crisi del 2007, si è evitato in ogni modo di mettere in atto prospettive keynesiane, come quelle del New Deal per intenderci, e infatti l'ordine neoliberale si caratterizza intrinsecamente per essere insieme anti-marksiano e anti-keinesiano.